Veniale, e per mantenere questo ritmo, il tempo, chiedo subito a Don Paolo Morocutti, che è il professore, psicologo, esorcista e docente alla Pontificia Università Gregoriana, e gli abbiamo affidato un bel tema, credo che piaccia a ciascuno di voi, sulla confessione, virtù, dipendenze e malattie spirituali, come aiutare le persone, e chi più di Don Paolo ci potrà spiegare questo tema che gli abbiamo affidato. Caro Don Paolo, a lei la parola. Bene, prima di iniziare la mia relazione, permettetemi di ringraziare un itensiere maggiore, il Cardinal Piacenza, Su'Eccellenza al Monsignor Reggente. Anch'io più di vent'anni fa ho partecipato a questo corso e porto ancora nel cuore i frutti, spero, positivi. Per introdurre il tema di questa relazione, confessione, virtù, dipendenze e malattie spirituali, vorrei partire da un'espressione che riassume in modo efficace i compiti e le caratterizzazioni principali che il confessore dovrebbe esprimere nell'esercizio del proprio ministero. L'espressione, fortiter in re, suaviter in modum, traducibile con energicamente nella sostanza e dolcemente nei modi, la cui paternità viene comunemente attribuita al gesuita Claudio Acquaviva, quarto generale della Compagnia di Gesù, ma che in realtà è un'espressione già presente nella letteratura patristica latina. Questa espressione contiene, a mio avviso, due realtà sostanziali che dovrebbero caratterizzare il modo di agire del confessore per il corretto esercizio del suo ministero. Prima di parlare delle dipendenze e delle malattie spirituali, mi soffermo volentieri sulla prima parola riportata nel titolo della relazione, la parola virtù. Riguardo al sacramento della riconciliazione, la virtù ha almeno tre accezioni diverse che occorre considerare brevemente. Nella confessione sacramentale la prima virtù è relativa alla sua dimensione ontologica. Essendo un sacramento istituito da Cristo, la sua efficacia va compresa in senso teologico. Ex opero operato, cioè per il fatto stesso di aver fatto la cosa, come è noto l'espressione si riferisce al fatto che nei sacramenti il peccato del ministro non può inficiare il risultato dell'azione sacramentale. Per esempio nel nostro caso l'assoluzione sacramentale impartita da un presbitero in peccato mortale mantiene la sua validità, purché il ministro, come è noto, abbia l'intenzione di fare quello che intende fare la Chiesa. In questo senso la confessione è per così dire una virtù in se stessa. Le altre due dimensioni relativi alla virtù della confessione sacramentale riguardano evidentemente il confessore e il penitente. Vorrei analizzare brevemente la virtù relativa al confessore. Questa virtù si esprime in modo peculiare attraverso la maturazione e l'armonizzazione tra la fides qua e la fides qua del confessore. Il confessore è prima di tutto chiamato a conoscere il contenuto teologico del sacramento che cede. Per contenuto teologico si intende non solo il fondamento dogmatico, dottrinale, ma anche tutto ciò che riguarda l'insegnamento ecclesiastico in materia di morale, liturgia e spiritualità. L'operato del confessore diventa virtuoso e predispone alla virtù quando è vissuto nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. Il confessore è chiamato infatti ad essere fortiter in re, cioè determinato nella sostanza. Per sostanza, nell'esercizio del foro interno, si intende la profonda conoscenza della materia teologica, liturgica e morale, senza la quale l'esercizio di questo ministero risulterebbe assolutamente soggettivo, come spesso capita, e arbitrario, svincolato completamente dall'agire ecclesiale. Occorre ricordare con forza che il sacramento della riconciliazione ottiene la sua efficacia quando è vissuto e concepito come una realtà che ha origine ex corde ecclesie, dal cuore stesso della Chiesa. Per questo motivo ogni forma di individualismo e di soggettiva interpretazione del ministero può rendere sterile o addirittura poco efficace il ministero stesso. Potremmo dire che il monito di essere fortiter in re riguarda il dovere per il confessore di conoscere, approfondire, meditare e vivere il contenuto di ciò che celebra. Nell'attuale situazione pastorale non è difficile rilevare come molti presbiteri esercitano questo ministero senza una adeguata conoscenza dei contenuti della fede. L'esercizio soggettivo e arbitrario del sacramento rende un pessimo servizio alla Chiesa e alle anime che invece di trovare ristoro e misericordia vengono introdotte su strade assai scivolose e addirittura pericolose. Passiamo ora al secondo dinamismo virtuoso che deve avere il confessore nell'esercizio del suo ministero. Quello inerente, la fidesqua, cioè al modo con cui egli rende attuale il contenuto della fede. Egli è chiamato infatti ad essere suaviter in modo. Cioè a celebrare il sacramento della penitenza attraverso l'esercizio corretto e ordinato della sua umanità. Questa accezione alla virtù richiama il dovere del confessore di conoscere, almeno in linea generale, i principi fondamentali dell'umanesimo cristiano. Cioè quei principi che regolano le relazioni e i comportamenti tra individui. Pietà, compassione, misericordia, parresia, giustizia, collaborazione, mutuo soccorso, fraternità. Non sono solo dimensioni contenutistiche della fede. Nell'esercizio del buon ministero devono diventare espressioni di vita da parte del confessore. In altre parole il confessore è chiamato a curare e a custodire la sua umanità secondo i principi cristiani del Vangelo. Gli strumenti che la Chiesa mette a disposizione sono in primis, come ben sapete, la direzione spirituale e il ricorso alla stessa confessione. È incredibile come alle volte non si arriva a capire che un confessore, che non si confessa, che non pratica la riconciliazione della misericordia, come fa a sostenere questo ministero? Abbiamo come strumenti quello della direzione spirituale, ma anche per noi presbiteri quello della confessione. L'approfondimento delle scienze umane, almeno in linea generale. Noi non siamo chiamati a essere psicologi, psicologo fa lo psicologo, confessionale, non si fa psicanalisi, ma almeno a conoscere i principi generali che regolano l'umanesimo. Questo siamo chiamati a farlo, fa parte questa formazione della confessione. Il Santo Padre Francesco, a tale proposito, ha recentemente richiamato la necessità di introdurre nei seminari la formazione psicologica di base, al fine di promuovere strumenti conoscitivi per il discernimento personale e per prevenire possibili storture nella formazione presbiterale. Con questo, come avremo modo di approfondire più avanti, il sacerdote non è chiamato a sostituirsi allo psicologo. Compreso il confessore. Ma è indubbio che le conoscenze antropologiche e psicologiche di base aiutano a comprendere meglio l'uomo nei suoi comportamenti e anche nelle sue possibili deviazioni. Con queste considerazioni preliminali possiamo comprendere come il sacramento della riconciliazione, quando vissuto ed esercitato nel modo e nei contenuti che la Chiesa indica, costituisce la vera virtù necessaria e il confessore è chiamato ad essere il principale dispensatore attraverso un agire e un sapere virtuoso. In questo senso la confessione sacramentale può essere una via di guarigione efficace per le varie forme di dipendenza o di malattia spirituale che adesso andremo ad approfondire. Il concetto di dipendenze comportamentali è un concetto ben conosciuto nella psicologia generale clinica moderna ed è addirittura codificato nella quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, detto DSM-5, che al gruppo delle diagnosi psichiatriche ufficiali ha aggiunto la denominazione dipendenze patologiche comportamentali. Un aspetto peculiare delle dipendenze comportamentali è che esse coinvolgono pulsioni normali come le relazioni, il cibo, il lavoro, la sessualità, il danaro, il gioco, che divengono però patologiche nella misura in cui raggiungono un certo livello di eccesso e di pericolosità per la persona. Il carattere distintivo della dipendenza comportamentale resta sempre e comunque l'incapacità della persona, dell'individuo, di mitigare il comportamento nonostante le conseguenze negative che si osservano nel funzionamento quotidiano. I comportamenti e i processi legati alla dipendenza comportamentale sono volti a dare piacere, rappresentano spesso una via di uscita dalla sofferenza emotiva o fisica e sono caratterizzati dalla incapacità a controllare, a controllarsi, messa in atto dal comportamento e l'insorgere di importanti conseguenze negative nella vita fisica, psichica e naturalmente in quella spirituale. Le principali forme di dipendenza codificate dalla psicologia clinica sono la dipendenza affettiva, la dipendenza sessuale, la dipendenza dalla pornografia devastante, numericamente secondo studi che poi riferirò, dipendenza da internet, dipendenza da social network, dipendenza dal lavoro, dipendenza da gioco di azzardo, dipendenza da esercizio fisico e evidentemente dipendenza da sostanze. Come possiamo vedere, gli ambiti principali di rischio per le dipendenze sono quelli in cui si possono verificare situazioni di peccato occasionale o più facilmente di peccato abituale e ripendenza considerare la prima come una realtà legata alla dimensione umano-affettiva della persona, mentre la seconda ha una dimensione più propriamente spirituale. Va anche detto che la dimensione umano-affettiva e la dimensione spirituale non possono essere del tutto separate. Come ricorda Sant'Omaso, nella sua nota espressione secondo la quale la grazia presuppone la natura, ogni malattia spirituale ha sempre origine nell'esercizio erroneo delle dimensioni umane che costituiscono la persona, in particolare nel modo sbagliato di esercitare il libero arbitrio. Il tema delle dipendenze è un tema antico che tuttavia evolve nelle varie epoche della storia attraverso contesti profondamente notevoli, mutevoli. Sarebbe impossibile trattare in modo esclusivo il grande tema delle dipendenze, ma cercherò piuttosto di offrire alcune linee guida concrete per affrontare le dipendenze all'interno del sacramento della riconciliazione. Nel contesto attuale, come abbiamo visto, le dipendenze predispongono la persona ad una vera e propria situazione di peccato, anche grave. Un recente studio promosso dalla Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha preso in esame un campione di uomini e donne tra i 18 e i 60 anni e ha evidenziato come di questi soggetti, uno su tre, ha avuto accesso a contenuti pornografici su rete. Un dato allarmante. Tuttavia il problema che in questa serie dobbiamo analizzare non è relativa alla valutazione morale della pornografia o delle altre dipendenze, quella la conosciamo. In questa serie dobbiamo analizzare il modo con il quale il confessore nella sua specificità può e deve agire per aiutare il penitente. Apro una parentesi. Santo Padre in una recente udienza ai religiosi ha suscitato ilarità quando ha fatto riferimento all'uso degli strumenti di internet. Ma quando il Papa parla evidentemente si informa e gli studi parlano chiaro. La dipendenza e l'uso degli strumenti internet anche in ordine alla pornografia è un male devastante. Esistono per questo delle indicazioni alle quali il confessore è bene che si attenga scrupolosamente e arriviamo alla nostra materia sulle dipendenze. Prima di tutto occorre essere consapevoli che lo spazio temporale di una confessione sacramentale non può rappresentare la soluzione a una dipendenza. Occorre anche evidenziare come vi sia una certa diversità nell'esercizio del sacramento della riconciliazione. Il parroco nella propria parrocchia, se esercita tale ministero in modo abituale, potrà avere la possibilità di seguire la persona in modo più continuativo, creando le condizioni, per esempio, per un accompagnamento. Molto diversa è la situazione in un santuario o in un altro luogo dove il sacramento della confessione è esercitato in modo occasionale. In tutte le realtà dove la confessione si configura come un evento occasionale che può rappresentare l'unica occasione per poter affrontare il problema delle dipendenze, occorre un'attenzione particolare. Il sacramento della riconciliazione non prevede di norma l'aspetto ripetitivo con il medesimo confessore, a meno che si stavi una relazione di accompagnamento sacramentale. Per questo cercherò di dare a meno delle linee guida generali per l'aiuto nell'ambito delle dipendenze. Una prima regola che possiamo adottare è quella di cercare di capire con molto tatto e moltissima delicatezza se nel confessare determinati peccati, come l'infedeltà coniugale, l'uso della pornografia, l'abitudine al gioco e così via, ci sia occasionalità oppure questi vengono reiterati più volte nel tempo. Solo attraverso un dialogo discreto, breve e sincero, possiamo cercare di capire, con l'aiuto della grazia, se determinati peccati siano riconducibili a un fattore occasionale oppure a una vera e propria dipendenza. Questa breve indagine all'interno della confessione è necessaria, perché i modi di trattare la caduta occasionale o la dipendenza sono completamente diversi. occorre ricordare che la dipendenza è una realtà patologica che nella materia spirituale è riconducibile al vizio, cioè ad una forma abituale di peccato. Tuttavia nel trattare il vizio occorre essere determinati nell'esortare ad evitare le occasioni prossime di peccato, mentre nell'ipotesi della dipendenza questo risulta molto difficile. Per fare un esempio pratico, è come chiedere a un fumatore che abitualmente fuma tre pacchetti di sigarette al giorno di smettere immediatamente. Questo non è possibile. E guardate che qui c'è anche una concezione spirituale, perché ritenere che la maturità spirituale, la bravura di un confessore, dipende da far sospendere una dipendenza hic et nunc immediatamente, è follia, non è spiritualità. Non corrisponde alla verità. Il fine di raggiungere è quello di smettere di fumare, indubbiamente. Il modo per arrivare al fine è impraticabile. Un altro esempio potremmo farlo per una persona che fa uso abituale di pornografia. e che è dipendente da questo. Queste persone, verosimilmente, vivono uno stato di profonda prostrazione e di insoddisfazione personale. Lo dimostra il fatto stesso che nonostante la consapevolezza di commettere un atto moralmente illecito e disordinato, però ricorrono al sacramento della riconciliazione. C'è il desiderio di uscire da situazioni di peccato, ma non c'è la forza, non c'è la capacità. In questi casi il confessore deve esercitare un profondo senso di paternità e di comprensione. Pur rimanendo fermo sul giudizio negativo dell'atto, deve dimostrare un profondo senso di pietà e di compassione. Si deve inoltre indurre il penitente a confessarsi senza alcuna vergogna tutte le volte che ce ne sia bisogno. Senza vergogna. Anche più volte alla settimana, se questo è necessario. Poiché la confessione, come è stato precedentemente illustrato, è un evento di grazia che agisce potentemente sulla natura. Questa è la dottrina di Tommaso. Il sincero desiderio di pentimento, anche se non c'è immediatamente la forza e la capacità di staccarsi in modo definitivo dal peccato, rappresenta un aiuto straordinario per poter rafforzare la volontà del soggetto. In sintesi, si deve invitare il penitente che vive qualsiasi forma di dipendenza a ricorrere quanto più spesso possibile al sacramento della riconciliazione. Occorre poi invitare il penitente, nei modi e secondo le circostanze, a trovare soluzioni al problema anche al di fuori del sacramento. L'indirizzo ad esperti in scienze mediche e psicologiche di accertata credibilità e di fede cristiana può risultare un validissimo aiuto. A tale proposito, soprattutto per i parroci e per coloro che esercitano il Ministero della Riconciliazione in ambito più stabile, è utile avere la possibilità di riferimenti concreti di esperti in scienze umane cristiani che possono aiutare queste forme di dipendenza. In questi casi può risultare utile invitare il penitente ad offrire anche questa croce. Alcune situazioni particolarmente gravi di dipendenza possono rappresentare per lo stesso penitente una vera e propria croce dalla quale la persona vorrebbe liberarsi, ma non ci riesce. In questi casi può risultare utile, appunto, dicevo, invitare il penitente a offrire anche questa sofferenza. Per offerta della croce non si intende in alcun modo il compromesso con il peccato, ma l'umile e consapevole accettazione di una sofferenza che può essere offerta per la riparazione degli stessi peccati. In ultima analisi riguarda le dipendenze, tre sono le cose importanti. Un atteggiamento di profonda compassione, di pietà, mai di commiserazione, l'indirizzo laddove è possibile ad esperti che possono risarire alle cause che scatenano le dipendenze. Salto, perché se no non ce la facciamo, e vado direttamente alle malattie spirituali. Troverete poi la conferessa in modo integrale nel sito, immagino, della penitenzeria. Passiamo ora all'aspetto delle relazioni con le malattie spirituali. La Chiesa cattolica insegna che oltre ai vizi che rientrano nell'ambito delle malattie spirituali, esiste la possibilità che le anime siano oggetto dell'azione più o meno diretta del maligno. Scusate, ma questo lo devo dire più forte di me, io rimango scioccato. Nel sentire sacerdoti che con una certa leggerezza negano addirittura l'esistenza del demonio. Sacerdoti e non solo. Questo colpisce profondamente perché non è una questione personale, è una questione che tocca la rivelazione. E della rivelazione cristiana noi non possiamo prendere quello che ci fa comodo, dobbiamo prendere l'integrezza della rivelazione, questa è parte integrante della rivelazione. e ha come oggetto la sofferenza delle anime. E chi nega questa realtà che la Chiesa predica con chiarezza ed equilibrio si prende una responsabilità davanti a Dio gravissima? Esiste la possibilità che le anime siano oggetto dell'azione più o meno straordinaria del demonio. Se il peccato è oltraggio a Dio e all'ordine morale da lui stabilito, il vizio è ancora più pericoloso perché è più difficile da combattere, essendo la disposizione radicata dell'anima una abitudine perversa che ottenebra la coscienza e inclina al male. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1866. La vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono forza e coraggio per esistere alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella, dice Papa Francesco nell'Esortazione Gaudete ed Esultate, in cui spiega che il cristiano non è chiamato solo al combattimento contro il mondo o la mentalità mondana, ma anche a una lotta costante contro il diavolo che è il principe del male. Satana esiste, afferma il Papa. Ma non c'è bisogno che l'affermi Papa Francesco. Questo l'afferma la Chiesa da duemila anni, in maniera chiara. Ma il Papa afferma con forza che è un essere personale che ci tormenta. Gesù ci ha integnato a chiedere ogni giorno questa liberazione. Il tempo fugge. Considerazioni concrete. Nella situazione in cui ci troviamo della confessione luogo privilegiato, noi non dobbiamo fare né gli psicologi, né gli esorcisti. L'esorcista è nominato dal vescovo e ha il suo ruolo. La confessione sacramentale non è il luogo dove si esercita la psicanalisi e non è il luogo dove noi esercitiamo evidentemente il ministero dell'esorcistato. Questo vizio, permettetemi di dire, e lo dico con tanto affetto per i confratelli più giovani che iniziano il ministero, c'è oggi di voler fare gli psicologi. Ecco, durante la confessione sacramentale, il sacerdote, anche quando avesse delle competenze in psicologia, o fosse addirittura investito del ministero dell'esorcistato, non è chiamato né a fare lo psicologo, né a fare l'esorcista. Ma è chiamato a fare il confessore. Però è anche chiamato a far sì che quell'anima non solo sia redenta attraverso il sacramento, ma sia anche protetta dalla possibilità di ricadere nei peccati. Quindi ci vuole una conoscenza di base delle scienze umane, ma anche una minima conoscenza di base delle questioni che regolano la vita spirituale. Quando si ha qualche dubbio, qui ormai manca cinque minuti e vado a braccio, guardate, le sofferenze che le anime rivelano laddove ricorrono all'esorcista spesso, e con dolore dobbiamo rivelarlo, derivano proprio dai sacerdoti. E quando arrivano quei casi che hanno necessità, perché poi la maggior parte evidentemente, grazie a Dio, non hanno questa necessità, ma laddove si palesano necessità dell'intervento del ministero dell'esorcistato, che è un mandato apostolico, queste anime rivelano che le più grandi sofferenze le hanno ricevute dal proprio parroco, dal sacerdote, che o con ilarità sorride o sbuffa o non ascolta. Noi abbiamo il dovere morale di accogliere le anime, di ascoltarle e di esercitare un discernimento che abbiamo in duplice monus. Prima di tutto, come confessori, nell'atto della confessione, noi abbiamo una grazia particolare, che è una grazia attuale, una grazia di Stato, che ci consente in virtù dell'esercizio del sacramento un discernimento. Ma questa non è sufficiente, non è una magia. Questa avviene se ci sono anche delle basi minime di conoscenza. Allora, nessuno è chiesto di fare l'esorcista nell'ambito della confessione, ma se quell'anima ha bisogno di un cammino fuori dal sacramento per poter venire fuori da una dipendenza, dovrà essere indirizzata anche in esperti di scienza umana. se quell'anima, e ricordate che dietro ogni azione straordinaria del demonio, manca tre minuti, verso ogni azione straordinaria del demonio, c'è alla base il peccato. Il problema non è l'azione straordinaria. Il demonio non deve far paura quando fa confusione o quando fa rumore. Il demonio deve far paura quando tace. E il vero il vero dilemma è il peccato. Non esiste una condizione di azione straordinaria come la Chiesa insegna di rarissima però possibile di possessione, di vessazione o addirittura di infestazione dei luoghi che non abbia come origine il peccato. All'origine c'è sempre un peccato. Sia che questo avvenga tramite pratiche non lecite come la superstizione, la magia, ma purtroppo anche il ricorso anche a sette di ispirazione. C'è sempre il peccato. Non c'è mai una casualità che deriva. Allora la confessione capite non solo è il luogo dove si previene la malattia spirituale ma è anche il luogo dove si corregge. Come diceva è stato citato la sua eminenza San Giovanni Maria Vianney il quale nelle sue lettere dice che la prima forma fa capire di esorcismo contro il demonio è proprio la confessione e non dobbiamo mai ricordarci non c'è niente di più potente che una confessione sacramentale in ordine allo stato di grazia e quindi al combattimento del demonio. Concludo veramente poi che sarebbe non c'è tempo Caterina da Siena usava un'immagine molto efficace e diceva che la confessione è come un cellaio un cellaio è una cantina di questa cantina il contenuto non è il buon vino ma il contenuto è il sangue dell'agnello e diceva Caterina che le chiavi di questo cellaio di questa cantina ce l'ha uno solo ce l'ha Pietro e solo lui può aprire e chiudere quella cantina però diceva Caterina in questa suggestiva immagine il cellaio Pietro partecipa di queste chiavi ai sacerdoti che sono in comunione con lui apre la cella prende il contenuto che non è il vino è il sangue di Cristo e usa questa espressione molto suggestiva lo gitta in faccia all'anima e l'anima è pulita questo noi abbiamo nelle mani che è la risposta a ogni forma di dipendenza che è la forma a ogni forma di patologia spirituale purché noi esercitiamo questo ministero come lo intende la Chiesa in comunione con la Chiesa e senza trascurare una formazione umana e spirituale che la stessa Chiesa ci chiede e che le stesse anime esigono da noi sacerdoti grazie